Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un altro bellissimo caso di riabilitazione con denti fissi con sistema bocca bionica. Quello che vedi è una paziente che è arrivata al mio istituto con uno stadio avanzato di parodontite, i denti erano larghi, si erano creati degli spazi, aveva perduto gran parte dei denti a livello della masticazione, quelli rimasti erano tutti consumati e ingialliti. Dalla radiografia si vede che erano tutti in espulsione, quello che abbiamo fatto è stato ripristinare con due arcate provvisorie i denti, con sei impianti dentali nell'arcata superiore e sei nell'arcata inferiore. Successivamente abbiamo rifatto le arcate con dei denti definitivi. Questo è lo schema grafico del tipo di chirurgia che abbiamo eseguito. Abbiamo evitato le zone di vuoto dei seni macellari e avvitato poi le protesi provvisorie sopra gli impianti. La paziente dopo sei mesi è tornata ai policlinici. Qua vedi l'attac tridimensionale che è stata posizionata nella parte sinistra e lo stato iniziale. Quella sul lato destro invece sono gli impianti posizionati. La paziente ha montato due linee superiore in zirconio, il top di gamma, questi sono i denti più avanzati al mondo, realizzati con librerie di denti digitali, simulazione della gengiva, iperrealistica, sono delle protesi di fascia alta, queste di top di gamma. Questo è il risultato estetico finale, l'integrazione completa delle due arcate all'interno della bocca della paziente. Texture di superficie imperialistica, nota qua come le superfici dei denti hanno la forma non solo dei denti, ma anche la forma della superficie dei denti naturali. Nessuno potrebbe dire che questi sono dei denti artificiali. Questa è una paziente che ha ripristinato l'estetica, nota come sia cambiato anche qua il viso, come sia completa la composizione dentale tra le labbra. Prima mancavano i settori laterali della masticazione, i denti anteriori erano un po' strani da vedere ingialliti. Ora abbiamo un sorriso perfetto, bianco, denti tutti allineati, una composizione perfetta che dona un viso luminoso e piacevole da vedere. Un saluto da Dottor Palmas, guarda tutti gli altri casi risolti con il sistema bocca bionica.